30 minuti di silenzio e tutti impegnati a leggere un documento cartaceo di 6 pagine. Da Amazon tutte, ma proprio tutte le riunioni dei piani alti iniziano così. Sono ormai 20 anni infatti che Bezos ha categoricamente vietato i powerpoint e tutto ciò che somiglia ad un elenco puntato. Quindi il manager che deve presentare scrive 6 pagine informative, poi le stampa e le fa trovare ai partecipanti. Perché secondo Bezos si risparmia molto tempo. Un documento informativo mette subito a conoscenza dell'argomento e chi non è presente alla riunione recupera leggendo il documento. È più efficiente, le tante informazioni generano domande e discussioni più interessanti. Sono più argomentati, chi le scrive deve essere dettagliato e disaustivo mentre i powerpoint richiedono meno attenzione. Garantisce l'uguaglianza, chi ha una voce bassa ed è meno coinvolgente non è svantaggiato. Alla fine, considerando i risultati di Amazon, è stata probabilmente la cosa più intelligente che abbiamo mai fatto. Parola di Bezos.